L'amore di Eric Stigman per i treni è iniziato da giovane, quando lavorava in questo negozio di modellini di treni a Berlino. Ora, da ingegnere ferroviario, sceglie sempre il treno per spostarsi nel continente. L'amore di Eric Stigman per i treni è iniziato da giovane, quando lavorava in questo negozio di modellini di treni a Berlino. Non è l'unico a pensarla così. Una ONG tedesca che promuove viaggi in treno afferma che negli ultimi anni c'è stato un forte aumento della domanda. I treni notturni, infatti, sono tutti esauriti e prenotati con largo anticipo. Gli operatori ferroviari nazionali stanno aggiungendo nuove tratte e questo è il prossimo anno, con un maggior numero di viaggi diretti che collegheranno la Germania alle città di tutta Europa. La Deutsche Bahn ha dichiarato che quest'anno ci sono state vendite record per il trasporto a lunga distanza. L'Unione Europea punta a raddoppiare l'alta velocità ferroviaria entro il 2030. Secondo questo analista di viaggi in treno, il numero di passeggeri può aumentare in modo massiccio, ma il cambiamento è ostacolato dalle agevolazioni fiscali concesse alle compagnie aeree. Il prezzo è un ostacolo anche per Eric, nonostante la sua preferenza per i treni. È solo energie effettivamente, comparando a treni, e è anche, ovviamente, la sua motivazione. Then again, è così costruito che non posso evitare a treni completamente, infatti.